Bentornati in un nuovo video dedicato a Infinity Magic Ride. Circa una settimana fa è stato rilasciato un nuovo eroe mitico. Dov'è? Eccolo qui, Zhong Ming della fazione Alleanza della Sagacia. E pensavo, perché non fare una tire list di tutti gli eroi mitici e vedere chi conviene evocare prima di altri e chi invece conviene evitare come la peste? Per cui oggi voglio proporre un video diverso rispetto a quelli presenti già sul canale. E in questo video andrò a creare la mia classifica degli eroi mitici. Classifica che cercherà di rispondere alla domanda Quali mitici valgono veramente la pena di essere buildati? Prima di iniziare, una piccola precisazione. Su un foglio Excel mi sono creato una piccola tabella nella quale ho cercato di capire per ogni singolo eroe mitico dove questi vengono usati dai giocatori giusto per avere un'idea più completa. Detto questa, iniziamo proprio dall'ultimo eroe che è stato aggiunto, Zhong Ming, per cui procediamo prima alla lettura delle sue abilità. La sua A1 infligge un'istanza di danni pari al 4% degli HP di Zhong Ming e danno da danno interno pari al 4% degli HP massimi di Zhong Ming a tutti i nemici con un 80% di possibilità di infliggere un livello di danno interno per due turni. La sua A1 sembrerebbe essere, sulla carta, abbastanza solida. Esclusivo A1 aumenta l'effetto di ripristino del 50% della connessione con lo spirito drago. Se il bersaglio ha tutti gli HP, gli conferisce invece uno scudo con lo stesso valore per due turni. Ogni bersaglio può attivare questo effetto fino al massimo di 4 volte per turno. Se si ha la condizione Possessione dello Spirito Drago, si ottengono due livelli di soffio dello Spirito Drago al lancio di Drago in volo. A2 Rugito del Drago Alterna le connessioni Alterna le condizioni Connessione con lo Spirito Drago e Possessione dello Spirito Drago e agisce immediatamente per un turno. All'inizio della battaglia Zhong Ming ha la condizione Connessione con lo Spirito Drago. Che cosa fa? Aumenta il riflesso danno di tutti gli alleati di un 11%. Per ogni stanza di danno decisivo subita da un'alleanza lui ripristina gli HP dell'alleato di un 3% dei suoi propri massimi HP. Bella pure questa. Vediamo cosa fa invece Possessione dello Spirito Drago. Aumenta il danno di danno interno inflitto da lui di un 48%. Ogni volta che Fendente del Drago viene lanciato attivamente Zhong Ming ottiene un livello di soffio dello Spirito Drago. Quando Soffio dello Spirito Drago si accumula fino a 6 slash 12 livelli Fendente del Drago infligge 2-3 istanze di danno. Il recupero di ruggito del Drago non può essere alterato o ripristinato. Piccola paracentasi che vale per tutti gli eroi presenti su Infinity Magic Ride le spiegazioni delle skill sono dannatamente lunghe e ad una prima lettura complicate. chiusa parentesi Allora questa skill varia sia con l'esclusivo 1 che con l'esclusivo 3 Esclusivo 1 Connessione con lo Spirito Drago cosa fa? Aumenta l'effetto di ripristino del 50% Se il bersaglio a tutti gli HP e questo l'avevamo già detta prima l'avevamo già detta ed è sempre questa Ok Esclusivo 3 Quando viene lanciato Drago in volo gli effetti extra vengono conferiti in base alla condizione di Zhongming Se è in connessione con lo Spirito Drago la prima istanza rimuove tutti i buff da tutti i nemici Quando l'abilità termina riduce il recupero di un turno Se invece è nella possessione dello Spirito Drago Quando Zhongming ha 4, 8 o 12 livelli di soffio dello Spirito Drago aumenta il danno da danni interni inflitti dalla seconda istanza di un valore pari a 150, 200 e 400% dell'originale e ripristina la durata del danno inflitto del danno interno inflitto a tutti i nemici Andiamo direttamente alla 3 poi vediamo la passiva La sua 3 infligge due istanze danni pari al 5% di HP massimi di Zhongming e danno da danno interno pari al 5% dei suoi massimi HP Ciascuna ha tutti i nemici Successivamente ha un 80% di possibilità di infliggere orrore per un turno E1 ed E3 li abbiamo già letti Ci manca di leggere E2 che sarà sulla passiva Eccola qui Zhongming ha un valore di stile massimo pari a 2000 ogni volta che Zhongming lancia fendente del drago o drago in volo proattivamente ripristina 50 punti del suo del valore di stile per ogni 400 punti valore di stile ripristinati in questo modo si attiva ringhio del drago immediatamente una volta c'è un 60% di probabilità di infliggere attacco ridotto di secondo livello a tutti i nemici per due turni per i bersagli con almeno 4 livelli di danno interno ogni livello di danno interno inflitto da Zhongming inflisce invece danno da danno interno pari al 6.6% degli HP massimi di Zhongming quando sono presenti 1, 2, 3, 4 alleati dell'alleanza della Sagacia che è la sua alleanza il danno da danno interno inflitto da Zhongming aumenta 120 150 200 e 300 per cento dell'originale piccola postilla quando è stato presentato per la prima volta questo campione sul disco d'ufficiale le percentuali erano nettamente superiori quindi è stato leggermente nerfato cosa fa il suo esclusivo 2 sulla passiva all'inizio di ogni ondata Zhongming ripristina 300 punti del valore di stile alla fine dei turni degli alleati Zhongming all'inizio di ogni ondata Zhongming ripristina 300 punti del valore di stile alla fine dei turni degli alleati Zhongming ripristina 50 punti del valore di stile ogni volta che Ringio del Drago viene attivato conferisce a tutti gli alleati uno scuro pari al 20% degli HP massimi di Zhongming per due turni con la stessa probabilità di infligge difesa ridotta per due turni a tutti i nemici per due turni allora è un campione come abbiamo letto dalle skill che bisogna vestire con tanta HP perché i suoi danni scalano su HP con tanta maestria perché il danno interno scala su maestria per cui i set maestria e il set costanza sono quelli che mi sento di consigliare purtroppo però allo stato attuale è un eroe che viene usato in pochi contenuti viene l'ho visto un po' in arena viene usato nel purgatorio dei sette peccati contro il boss Gola può essere usato nella torre del marchio e nella sua fazione anche se in questi due casi nelle formazioni consigliate in gioco non viene usato da nessuno e avere un mitico che non viene neanche usato nella sua rispettiva fazione e nella torre del marchio è veramente triste mi verrebbe da dire per cui per tutta questa serie di ragioni mi sento di posizionare Zhong Ming in C non lo posiziono in D perché fidatevi c'è molto ma molto di peggio passiamo ora a Ben Austin e procediamo con la lettura delle sue skill A1 infligge il 100% del danno di attacco a un solo nemico con un 30% di probabilità di ridurre la sua difesa del 60% per due turni poi l'alleato con l'attacco più elevato insegue e attacca lo stesso bersaglio una volta skill molto semplice e di facile comprensione passiamo alla seconda skill infligge due istanze pari al 100% del danno dell'attacco a tutti i nemici con un 35% di probabilità di aumentare il recupero di entrambe le abilità attive del bersaglio di un turno esclusivo ruba inoltre il 10% del contatore di turno del bersaglio quando ci aumenta con successo il recupero delle sue abilità molto carina anche la sua a2 passiamo con la 3 rimuove tutti i buff da un bersaglio nemico poi infligge buff resistance sullo stesso per un turno purifica tutti gli effetti di controllo da tutti gli alleati tranne se e fa in modo che inseguiano e fa in modo che inseguano e attacchino questo bersaglio nemico una volta le 3 l'esclusivo 3 cosa fa? azzera il recupero di questa skill qui se usando questa skill non si uccide il bersaglio nemico passiva ben hostin ha un 20% di probabilità di purificare tutti gli effetti di controllo da qualsiasi alleato che ne subisca esclusivo 2 i bersagli con effetti di controllo purificati dalla sua passiva ottengono anche il 50% di resistenza agli effetti per due turni dalla lettura delle sue skill capiamo che è un personaggio che necessita di velocità e precisioni per cui mi sento di consigliare set velocità il set destrezza e il set soccorso purtroppo no niente lui è troppo utile nella maggior parte dei contenuti del gioco la sua 3 combinata con il suo esclusivo 3 lo rende veramente ottimo nelle battaglie contro i boss per cui personalmente mi sento di inserirlo tranquillamente in grado A e ci sta perfettamente secondo il mio punto di vista passiamo ora a Brynhild e a Lucifer per questi due mi sento di fare un discorso che può valere per entrambi così cerchiamo di fare anche il video non troppo lungo iniziamo da Brynhild allora la sua A1 infligge due stanze del 240% di danno della difesa a un solo nemico questo attacco ignora immortalità immunità al danno e scudo una A1 abbastanza solida esclusivo 2 aumenta il contatore di turno di Brynhild del 20% quando lancia proattivamente squarcio della lama di lupo che è questa sua A1 o aumenta il suo contatore di turno del 40% se gli HP dell'obiettivo sono inferiori al 50% Brynhild agisce un turno extra se questo attacco infligge un'uccisione silenziamento inflitto da cannoni dell'anima di lupo non può essere rimosso anima anima dello spirito lupo seleziona un alleato ed evoca spirito lupo può possedere fino al massimo di un alleato eccetto se riducendo tutti i danni subito dall'alleato posseduto del 40% allo stesso allo stesso tempo spirito lupo contrattacca l'attaccante infliggendo il 200% al danno della difesa di Brynhild quando l'alleato posseduto subisce un danno attivo l'alleato posseduto da spirito lupo non può avere consolidamento può essere accumulato con il buff contrattacco anche questa varia con l'esclusivo 1 c'è un 80% di probabilità di infliggere ipnosi per un turno quando impatto rovina anima infligge danno allo stesso tempo il danno inflitto da spirito lupo ha un 40% in più di probabilità di perforante che aumenta al 60% quando un colpo decisivo va al segno il colpo decisivo sarebbe il colpo critico quando Brynhild rilascia anima dello spirito lupo sugli alleati posseduti da spirito lupo gli conferisce anima in fermento per due turni che gli conferisce un'azione immediata nel turno e aumenta il loro danno decisivo del 40% passiamo alla sua 3 Brynhild passa la forma cannone pesante e azzera il recupero di impatto rovina anima il recupero di questa abilità non può essere ridotto o aumentato da altri effetti esclusivo quando lancia spada pesante sguainata aumenta il danno decisivo di tutti gli alleati del 60% per due turni quando lancia mutevole azzera il recupero di tutte le abilità attive dagli alleati aumenta la loro tenacia del 60% per due turni un campione abbastanza solido passiamo a Lucifer passiamo sempre alla sua 1 infligge il 200% dei danni dell'attacco a un suo nemico quando si attiva decisivo sferra un altro attacco dopo aver ucciso il bersaglio attacca il bersaglio con gli hp più bassi si attacca allo stesso bersaglio il secondo danno inflitto è pari al 70% del precedente esclusivo 2 ottiene un ulteriore danno decisivo del 15% e gli attacchi aggiuntivi non riducono più il danno buono a 2 infligge 550% dell'anni dell'attacco a un solo nemico gli infligge debolezza di un grado debolezza di primo grado e si conferisce furtività per due turni varia colonna esclusivo 1 e invece di infligge debolezza di primo grado infligge debolezza di secondo grado e infligge in aggiunta anche ferita grave per due turni la sua 3 infligge l'840% del danno dell'attacco a un solo nemico infligge il 20% in più di danno se il bersaglio ha un buff o un debuff esclusivo 3 riduce la difesa di tutti i nemici del 60% per due turni se lucifer infligge un'uccisione con karma poi lancia karma ancora una volta ancora una volta su un bersaglio casuale e questo effetto non si può attivare ripetutamente la sua passiva all'inizio di ogni ondata lucifer si conferisce furtività per un turno quando ha la condizione furtività aumenta il suo tasso decisivo del 30% e il suo danno decisivo di un altro 30% la durata aumenta di un turno se lucifer ha la condizione furtività quando uccide il bersaglio altrimenti riceve furtività per un turno lette le skill di entrambe capiamo subito che brimhild scala i suoi danni sulla difesa lucifer invece su attacco ma apparte questa differenza per il resto bisogna vestirli allo stesso modo per cui bisogna dargli tanto tasso decisivo danno decisivo oltre che rispettivamente difesa la prima e attacco al secondo pertanto i set quali tasso decisivo danno decisivo set assassino set selvaggio o anche il set divorante sono quelli che mi verrebbe da consigliare quando io ho iniziato a giocare ad infiniti magic ride questi due eroi erano il mio tormento in arena li trovavo molto spesso per non dire sempre in realtà oggi purtroppo questi due campioni si vedono sempre di meno non vengono usati in nessun contenuto e se si pensa al fatto che non vengano usati neanche nella loro torre del marchio allora credo che ci sia un grosso problema per cui a malincuore brimhild e lucifer li devo per forza di cose posizionare in d magari a qualcuno che gli avvocati gli piangerà il cuore vederli in d però è innegabile che in questo momento in gioco lato arena dove questi venivano usati ci sono dei campioni più forti e più utili la pecca della torre del marchio è pesante passiamo ora a melchio a differenza degli altri forse conviene partire dalla sua passiva allora melchio è immune a silenziamento orrore e incitamento inoltre il recupero delle sue abilità non sarà influenzato da altri effetti all'inizio di ogni ondata è del turno di melchio no del melchio non si può sentire traduzione pessima melchio ottiene un livello di tuono fuoco e buio e migliora le abilità corrispondenti e migliora le abilità corrispondenti in base ai livelli di ciascun elemento un livello aumenta le abilità base due livelli l'abilità intermedi tre livelli abilità avanzata quando melchio lancia abilità proattivamente tutti i livelli di elementi corrispondenti verranno consumati non verranno tuono fuoco e buio non verranno rimossi alla morte melchio lancia bagliore base quando si sferrano controattacchi o attacchi con inseguimento e nessun livello di tuono verranno consumati passiva un po' complicata ma una volta che lo si vede in azione è molto intuitiva andiamo adesso andiamo adesso a leggere le sue skill bagliore base allora andiamo a leggere le sue skill andiamo a leggere ora le sue skill attacco base bagliore base infligge tre istanze del 130% del danno dell'attacco a un solo nemico allo stesso tempo riduce il contatore di turno del bersaglio del 10% oppure del 15% quanto si mette a segno un colpo decisivo fiamma base infligge il 320% del danno dell'attacco a un solo nemico e ad altri due nemici casuali causa un colpo decisivo garantito ai bersagli con debuff infligge il 220% del danno dell'attacco a tutti i nemici parliamo della sua 3 adesso con un 60% di probabilità di ridurre la loro tenacia del 60% per due turni le skill di secondo livello la sua 1 che cosa fa infligge 4 istanze di 160% del danno dell'attacco a un 60% di infliggere stordimento per un turno questo attacco ha un ulteriore 30% di perforante esclusivo 3 quando melchio lancia un'abilità intermedia o un'abilità avanzata ottiene l'effetto extra dell'abilità in base all'elemento consumato tuono ignora lo scudo immunità al danno e mortalità aumenta il danno inflitto al boss del 100% ciascuna istanza riduce il contatore di turno del bersaglio del 15% e riduce in più del 10% il contatore di turno del bersaglio quando si mette a segno un colpo decisivo fuoco decisivo garantito questa abilità ottiene un 40% di danno decisivo in più e ha il 25% in più di probabilità di perforante contro i bersagli con debuff infine abbiamo buio infligge un danno extra pari al 12% degli hp massimi del bersaglio e arriva a un massimo del 300% dell'attacco di melchio fiamma intermedia infligge tre istanze di 110% del danno dell'attacco a tutti i nemici causa un colpo decisivo garantito ai nemici con debuff e questo attacco ha il 60% di danno decisivo in più la sua il suo esclusivo tre l'abbiamo già letto massa oscura intermedia rimuove scudo e infligge il 220% del danno dell'attacco a tutti i nemici col 60% di probabilità di ridurre la loro tenacia del 60% per due turni andiamo adesso a vedere le ultime folgore avanzato infligge 4 istanze di 160% del danno dell'attacco a un solo nemico la quarta istanza dell'attacco ha un 100% di probabilità di infliggere stordimento per un turno quest'attacco ha un ulteriore 65% di probabilità di perforante esclusivo 3 l'abbiamo già letto infligge tre istanze di 110% del danno dell'attacco a tutti i nemici stiamo parlando di rocco avanzato adesso causa un colpo decisivo garantito ai nemici con debuff questo attacco ha il 100% di danno decisivo in più ruba tutti i buff in convenza oscura avanzata ruba tutti i buff da tutti i nemici e gli infligge il 220% dell'anno dell'attacco con un 60% di probabilità di ridurre la loro tenacia del 60% per due turni questo attacco ha il 20% di procedimento in più e questo è il suo enorme set di skill l'equipaggiamento è come lucifer essendo entrambi eroi che scalano sui attacco melchio col passare del tempo sta facendo una fine migliore rispetto a brinjeld e lucifer ma anche lui pur essendo un mitico viene usato in pochi contenuti certo rispetto ai due precedenti viene usato o viene usato nella torre del marchio e nella sua rispettiva fazione ma è pur sempre troppo poco questo però gli permette di piazzarsi in B e finiamo questa prima parte di video dedicato ai mitici parlando di l'UKEA andiamo a leggere le sue skill a1 infligge tre stanze di 65% del danno dell'attacco a un solo nemico con una probabilità del 50% di infliggere un livello di sanguinamento per due turni la probabilità aumenta al 70% quando si mette a segno un colpo decisivo a2 infligge tre stanze di 160% del danno dell'attacco a un solo nemico allo stesso tempo ogni stanza ha un 100% di probabilità di infliggere un livello di sanguinamento per due turni più il livello di sanguinamento ha il bersaglio maggiore è il danno extra che ogni stanza può infliggere fino a un massimo di 160% andiamo a leggere cosa fa l'esclusivo 1 Lucchia si conferisce uno scudo del 30% dei propri HP massimi e furtività per due turni dove averla lanciata non male a3 infligge 6 stanze di 120% del danno dell'attacco a un solo nemico la prima istanza infligge due livelli di sanguinamento per due turni e ciascuna delle cinque stanze successive ha il 50% in più di probabilità di perforante andiamo a leggere l'esclusivo 3 infligge un livello di sanguinamento per due turni quando le ultime cinque istanze di liberazione della lama spirituale causano un colpo decisivo se non viene causato un colpo decisivo c'è una probabilità del 60% di infliggere un livello di sanguinamento per due turni inoltre quando l'UKEA ha il nucleo dell'anima e ogni volta che liberazione della lama spirituale metta a segno un colpo decisivo attiva in più l'effetto di un'istanza di sanguinamento una volta dopo il lancio di liberazione della lama spirituale passiva l'UKEA l'UKEA ottiene due pezzi di frammento dell'anima ogni volta che infligge un'uccisione e guadagna un pezzo di frammento dell'anima ogni volta che lancia un'abilità attiva ogni pezzo di frammento dell'anima aumenta il suo prosciutamento velocità e danno d'asseminamento di un 3% quando l'UKEA raccoglie cinque pezzi di frammento dell'anima rimuove tutti i debuff da sé e riunisce i frammenti in un nucleo dell'anima aumentando i suoi prosciugamento velocità danno d'assanguinamento del 15% da quel momento l'UKEA non attiene più alcun frammento dell'anima agisce invece immediatamente per un turno e azzera il recupero di tutte le sue abilità attiva esclusivo 2 riduce il recupero di una abilità attiva casuale di un turno ogni volta che l'UKEA ottiene un pezzo di frammento dell'anima ogni frammento dell'anima aumenta in più la probabilità di perforante di l'UKEA del 5% mentre il nucleo dell'anima aumenta la sua probabilità di perforante del 45% per cui una volta lette le sue skill possiamo ben capire che un personaggio come l'UKEA bisogna vestirla concentrandoci su attacco maestria ed efficace effetto per massimizzare appunto i suoi danni che provengono dal sanguinamento purtroppo anche lei non trova un grande utilizzo attualmente ricordiamolo sempre e pertanto il mitico l'UKEA personalmente lo posiziono in D e con l'UKEA finisce questa prima parte di video dedicato ai mitici e alla loro classificazione secondo il mio punto di vista ci vediamo con la seconda parte che andrà a concludere questo grande unico video spero che possa tornarvi utile e appunto ci vediamo nella seconda parte di l'UKEA 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 l'UKEA